In occasione di un workshop in corso qui a Roma, incentrato sui farmaci innovativi e in particolare su come garantirne l'accesso tempestivo, abbiamo il piacere di parlare con la professoressa Stefania Gori, presidente eletto di IOM. Professoressa, l'IOM ha proposto l'istituzione di un fondo nazionale dedicato ai farmaci oncologici innovativi. Ci può spiegare in dettaglio la proposta e qual è soprattutto il suo stato di avanzamento? Allora, la proposta vuole essere anche una proposta provocatoria nei confronti della cittadinanza per far capire quanto fa male il fumo e quindi tassare il fumo che noi sappiamo provocare, oltre che il tumore del polmone, ma molte altre neoplasie, oltre a tutta la patologia cardiovascolare, potrebbe essere anche un modo per far capire ai cittadini che fumano, che sono circa 11 milioni in Italia, quanto potrebbe essere deleterio per la loro salute e continuare in questa abitudine. Questa proposta che è stata lanciata potrebbe essere uno dei modi con cui finanziare questo fondo per i farmaci oncologici innovativi e per adesso è soltanto una proposta perché non c'è stato nulla ancora di concreto che è stato fatto. Purtroppo per tantissimi cittadini ormai le strategie di prevenzione non servono più, quindi è più necessario l'accesso a dei farmaci oncologici innovativi. Perché è così importante per voi lo stanziamento di questo fondo? È importante perché ci sono alcuni motivi per cui certe volte non tutti i cittadini che sono residenti nel territorio nazionale possano avere un accesso facilitato ai farmaci innovativi. Questo può dipendere anche dai diversi tempi con i quali vengono autorizzati a livello delle varie regioni italiane nel momento in cui poi AIFA ha contrattato il prezzo a livello nazionale. È veramente importante per noi fare in modo che tutti i cittadini malati di cancro e che potrebbero trarne un beneficio sostanziale dall'utilizzo dei farmaci innovativi possano farlo. Per questo significa equità per quanto riguarda il trattamento su tutto il territorio nazionale. Costano molto, quindi ci sono due problematiche. Uno, per la società scientifica collaborare con le istituzioni per identificare i pazienti che possono effettivamente trarre beneficio dall'utilizzo di farmaci molto costosi. Due, collaborare con le istituzioni per cercare di capire come nutrire questo fondo nazionale per i farmaci innovativi. Grazie a tutti.